Daiane è una bellissima vittoria, sofferta contro una bella Lazio, quali sono le tue sensazioni per questa finale raggiunta? Questa è la Coppa Italia, ieri è una partita abbastanza dura, oggi è ancora una altra e domani è la ultima, quella dove facciamo la guerra perché vogliamo portare questa Coppa a casa. Quando siamo arrivati qua lo sapevo che nessuna partita si giocava facile così, oggi abbiamo sofferto un po' sulla prima parte, eravamo un po' persi, un po' stanca, dopo ci siamo parlati e siamo riusciti a fare il nostro gioco come abbiamo fatto contro i Montesiovani, come stiamo facendo su tutte le altre partite. Va bene, domani si mette il cuore, la grinta, la stanchiesa c'è per tutte le due parti, quindi quello che mette di più e sbaglia di meno porta la Coppa a casa. A un certo punto della stagione non eravate regolari con i risultati, poi c'è stata una svolta, solo vittoria da un bel po' di tempo a questa parte? È quello che diceva prima, l'Italia parlava dell'isolotto sempre, tutti i giorni parlava di cose che si sa sapere, abbiamo tardato un po' per trovare la strada giusta, comunque dopo l'arrivo di sedi, Sara, la squadra ha iniziato a stare più compacta e adesso abbiamo trovato la strada giusta e andiamo così fino alla fine. Un tuo commento sulla finale di domani? C'è una squadra sulla carta inferiore a voi, però non conta nulla perché in finale può succedere di tutto. Nomi, maglia, non si gioca domani, si gioca la voglia, la grinta, quello che sbaglia di meno domani porta la Coppa a casa. Io non guardo se è... Io non guardo se è Lazio, se è Montesilvano, se è... o comunque noi domani andiamo per giocare e portare questa Coppa a casa. Grazie.